Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale! Ciao! Oggi abbiamo Benji che ha il vestitino nuovo che è bellissimo, è tutto quanto in azzurro simile all'Adidas, si chiama Adidog, vediamolo Come, come, come azzurro e come azzurro Guardalo qua! E ci fa compagnia qua nel nostro unboxing di oggi, vero Azzurra? Sì! Perché oggi abbiamo un unboxing molto speciale che abbiamo preso su Wish Si vede già qualcosa Si, sono delle piccole bamboline Ma tutte qui sono molto belle Simili alle LOL, sono le LIL, giusto? Quelle piccole se non mi sbaglio Sì, ma ci assomigliano un po' grandi a quelle reali Dove andava Benji? Ti sei emozionato? Guarda, ti sei andato a nascondere Benji, ti sei emozionato, amore? Va bene, allora cosa dici azzurro? Proviamo qua a vedere cosa c'è dentro Ok, io sono molto curiosa Iniziamo con una alla volta Va bene, va bene? Va bene, va bene, ok Allora, cosa vuoi ti amo? Tira Tentissimo Tentissimo, mamma Ma non si tolgono le cose? Non lo so No Proviamo a vedere Ma si possono girare Si, la testa si può girare Vediamo Mettila lì Così la vediamo Allora la testa si può Vediamola Muovere Ma no, ma non proprio indietro indietro Ah si Che carina E la Allora, mi chiamo lei Guarda che bionda, che bella La biondissima E beh, insomma E la mora Non poteva mancare anche la bionda Giusto, azzurra? Benji Benji lei nasconde Benji dov'è? Benji E' paura Benji Che fai, Benji? Che bella Vediamo Le capelle rosse Che carina L'ultima è la mia preferita Che era più bella Questa non è la mia preferita Ma però è mora Mora un po' Ma quella è nera, non mora Ma questa è mora No, questa è castana E quella è mora Eh Vedi Ma le cape devono essere così Vediamo Eh, devo girare Perché abbiamo fatto il contrario Hanno bagliato la tetta C'è un poverino Vediamo anche questa Vedi, metti lei E scendi Adesso Adesso E' curioso Vedi, eccolo lì Mamma Questa è la più bella A me al momento Mi piace l'amore Il vestitino Tutto in azzurro E' bella 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 Wow Questa è la corona Azzurra E' bella E' bella E' bella Trappa tutto Vai Che l'ho fatta Grande Manca poco Per la mia preferita Eh, vediamo allora Sono proprio curioso E' bella Vediamo Oh, no Ecco la tettolina Bella Super Tanto bene Guardate Questa ancora non è La mia preferita Ma però è carina Ma questa è Miss Baby Cioè Sì E' stupenda Sì Guarda Guarda mamma Che bella Questa E' questa Capelli rosa Bellissima E' bianchi E anche le cape d'oro Guarda Wow E' adesso E' la mia preferita C'è E' super bella No ma questa è stupenda No questa è super bella Vedi Mi piace Wow Col berretto Vediamo Con gli occhi verdi Anche Vediamola bene Ma i capelli rossi Non dovevano essere neri Non lo so Vediamo Vabbè Che bella Guarda quei codini Sì Rossi 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 Sì come il capello Allora Dai Anche Benji vuol giocare Guarda Ciao 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 Mica Con i capelli rossi Ma chi è quella Chi è secondo te Ciao Eh io sono la mamma La mamma di azzurra Chi è azzurra Azzurra vediamo E oggi non è vestita di azzurro C'è il vestitino grigio Ciao Allora Votiamo mamma Votiamo Vediamo allora Aspetta un secondo Mettiamola in ordine Vediamo Allora Allora Io ti dico Io questa Chi fa Quella non ti piace Giusto Quindi cancelliamo La Ciac 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 Mi piace un po' Quindi la prendo Allora La miss Bevi Poi Poi Super 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 Buttato Poi Batta Basta Gli altri Non ti piacciono No Si possono Solo Prendere due Ah Solo due Per giocare guarda che c'è una coda che sbucca e chi vuolta questo? il benji? mamma mia che grande vediamo cosa dice delle bamboline oh che bello che bello ciao noi si chiamiamo donji anche il vestitino l'abbiamo preso su wish vero azzurra? ma si azzurra come bello e si guarda e anche le righette perché lui non mi vuole mi fa tecare perché sono l'era rossa vabbè e benji vuole giocare ha già preso il sacchetto questo qua ciao noi ti chiamiamo bebe special allora noi andiamo in giro che grande è questo cane ma è il vostro amico ma certo lo giacchiamolo e poi si ha mangiato frocco vero? eh si oh oh perché sono culo? ecco lo giacchiamo no 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 le mie amiche non le vado toccate quasi 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 vedi anche lui vuole giocare con le piccole bambole ti mando tutta la carta che vuoi e te la te la cosa fai benji? sono trappo belle sono trappo belle? eh sono proprio carine sai è l'unica che non potuto che si fatte è lei ops no ma è fatto vedere il quadro si si ma è è caduto il quadro di lei di quando era piccolo vabbè ma non sta no no adesso ragazzi noi vi salutiamo perché sennò l'Azzurra dice tutto e non voglio perché non so presa e vi salutiamo e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace e ci vediamo Azzurra al prossimo video ciao ciao a tutti benji sta andando dal maiale ciao ciao